Le aree interne al centro di un convegno che si è svolto presso la sala consigliare del comune di Piedimonte Matese dove sono intervenuti esponenti politici locali, regionali e nazionali, il sindaco di Piedimonte Vittorio Civitillo che ha fatto gli onori di casa ma anche parte della sua amministrazione e della stessa minoranza consigliare per affrontare l'importante tema. Oggi è stata anche l'occasione per ricordare la figura dell'onorevole Dante Cappello a cento anni dalla nascita e a dieci dalla morte presente il figlio Enzo visibilmente commosso. Allora onorevole oggi si parla delle aree interne ma soprattutto una giornata particolare soprattutto per lei. Beh le aree interne certamente è un problema che da tempo ci stiamo ponendo come associazione ex consigliere regionale che vorremmo porre all'attenzione del mondo politico ma non solo anche imprenditoriale di tutte le istituzioni e qui a Piedimonte mi auguro che oggi si possano accendere questi grossi riflettori soprattutto con la presenza del vicepresidente della giunta regionale e quindi noi ci auguriamo che da oggi possa partire questo segnale nuovo per le aree interne. Poi oggi è il 17 dicembre e sono dieci anni della morte di mio padre e quindi sarà anche questa un'occasione per ricordarlo. Dopo i lavori so che c'è una cerimonia con l'intitolazione di una strada all'onorevole Cappello. Sì il comune di Piedimonte ha voluto dedicare una strada a mio padre a dieci anni dalla morte e che quindi stamattina faremo questa inaugurazione, la strada è quella che passa proprio davanti all'ospedale di Piedimonte Matese diciamo via Matese che diventa via Dante Cappello. Tanti sono stati commenti positivi per il compianto politico e le testimonianze di affetto e stima anche da parte di chi politicamente non la pensava come lui. Qual è il suo ricordo dell'onorevole Dante Cappello? Dante Cappello per l'alto casertano è stato un perno nella cosiddetta prima repubblica democrazia cristiana. Io provengo da quelle file, non facevo parte della sua corrente ma comunque all'interno del partito c'era rispetto. Io oggi mi trovo a Piedimonte Matese per ricordarlo e ancora per quel rispetto che lui nutriva nei miei confronti e io nei suoi. pur essendo di corrente diverse, ha creato molto, ha fatto molto, con tutti i difetti che ognuno di noi può avere ma certamente sul territorio ha dato moltissimo. Particolarmente toccante il momento in cui è stata scoperta la targa che dà il nome alla strada intitolata Dante Cappello proprio di fronte all'ospedale, una struttura, quella ospedaliera, per la quale il compianto politico si è impegnato al massimo per realizzarla e al quale va dato il merito se oggi rappresenta ancora un riferimento per l'alto casertano. La targa è stata scoperta, come vedete, dalle immagini dal figlio Enzo, dal presidente del Consiglio regionale Oliviero e non ultimo dal sindaco di Piedimonte Vittorio Civitillo che ha voluto che da oggi questa strada portasse il nome di Dante Cappello. Dal comune di Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it